Ben trovati amici del Centrometrio Italiano. Ultime precipitazioni sulle regioni meridionali prima di una tregua dal maltempo. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per martedì 5 febbraio. Al mattino piogge e acquazioni insisteranno ancora su Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania, mentre sul resto della penisola il tempo rimarrà asciutto con cieli regolarmente nuvolosi. Locali precipitazioni anche al pomeriggio al sud Italia, schiarite man mano sempre più ampie invece altrove. In serata e in nottata nebbie foschie in formazione sulla pianura padana, residui e fenomeni sempre tra Calabria e Sicilia ma in progressivo esaurimento. Le temperature non subiranno variazioni o tenderanno ad aumentare leggermente sia nei valori minimi che in quelli massimi. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.